Ciao, benvenuti in questa nuova puntata del podcast, io sono Creolisa e sono molto contenta di vedervi qui. Come sapete questo è un nuovo format che nasce quest'anno, nel 2022, e spero comunque che vi piaccia. Mi raccomando, come sempre, se il podcast vi piacerà, se avete domande, dubbi, suggerimenti su nuovi argomenti che volete trattare, scrivetemi sotto questo video che ne parliamo insieme. La domanda alla quale vorrei rispondere oggi è una domanda molto comune, è un dubbio che hanno tantissimi artisti, è un dubbio che ho avuto anch'io per tantissimo tempo e appunto riguarda la tavoletta grafica, o meglio, per migliorare nel disegno digitale occorre avere una tavoletta grafica costosa. La risposta richiede un approfondimento, quindi prima di rispondere parto specificando che io ho avuto questo dubbio per tantissimo tempo, finalmente ho avuto poi la mia risposta, che adesso vi dirò, e ho iniziato con una tavoletta grafica senza schermo. Come ben sapete, quindi per chi mi conosce nel canale appunto sa che io ho iniziato con una tavoletta grafica della Vacuum, ma era una tavoletta senza schermo, da 16 pollici, ce l'ho ancora, funziona ancora fra l'altro, ma nonostante tutto io non notavo dei grandissimi miglioramenti nel campo del disegno digitale. Seguivo tantissimi artisti e notavo che questi artisti avevano delle tavolette grafiche molto più costose rispetto alla mia, erano tavolette con schermo, erano tavolette più grandi e andando a fare una ricerca su internet avevo scoperto che erano anche delle tavolette top di gamma, quindi io avevo una tavoletta grafica da 200 euro più o meno, mentre loro disegnavano con tavolette grafiche da 2-3 mila euro, quindi una differenza veramente sproporzionata. E quindi giustamente non notando neanche dei miglioramenti nel campo del disegno digitale, quindi nonostante io continuassi a disegnare non notavo granché miglioramenti, quindi il mio dubbio ovviamente mi sembrava lecito, ma perché? Io non riuscirò mai a raggiungere allora il loro risultato, ecco perché? Perché devo avere la loro tavoletta grafica. Diciamo che per esperienza personale, quindi per quello che è stato il mio percorso, per quello che ho imparato in questi anni, io mi sento di dire che l'importante non è avere una tavoletta grafica da 2-3 mila euro, quindi non è importante avere un top di gamma, ma è importante conoscere il disegno digitale, avere le basi, sapere che cos'è il disegno digitale, come funziona il digitale, conoscere il programma che si sta utilizzando e avere una giusta conoscenza di quelle che sono appunto le particolarità del digitale, come per esempio i livelli, che sono uno dei primi ostacoli che si incontra quando si inizia a disegnare appunto in digitale. Conoscere e applicare correttamente queste tecniche, quindi applicare e conoscere bene le basi del disegno digitale, ci permette sicuramente di migliorare, quindi migliorare sia nel disegno digitale, ma in generale proprio anche la tecnica, ma anche la propria autostima ovviamente, perché poi anche di autostima si parla, se noi guardiamo un artista più bravo di noi e nonostante tutto non riusciamo a raggiungerlo o a migliorare, è chiaro che poi anche la nostra autostima ne risente e così anche le nostre illustrazioni e così via, è un circolo un po' vizioso. Ma siamo qui per parlare delle tavolette grafiche, quindi se ci serve o meno avere una tavoletta grafica più costosa per migliorare. In parte in realtà ho già risposto parlando in questo podcast dicendo che la cosa più importante sono le basi, quindi conoscere e sapere come funziona e che cos'è il disegno digitale. Quindi per quanto mi riguarda non è una tavoletta grafica a determinare la bravura di un disegnatore, ma in realtà siamo noi, quindi la cosa più importante è la nostra esperienza e sono la nostra esperienza e le nostre conoscenze. Quindi per rispondere alla domanda in modo diretto, no, non serve avere una tavoletta grafica costosa per essere dei bravi illustratori digitali. Io nel tempo ho cambiato la mia tavoletta grafica, successivamente ho investito in quella che è la mia tavoletta attuale, attualmente ho una vacuum con schermo, quindi ho una praticamente una vacuum syntic da 27 pollici, quindi è molto grande e touch, ma non è questo l'importante. Io ho investito in questa tavoletta perché ho continuato il mio percorso nel disegno digitale, volevo trasformare questo percorso non solo in una passione, ma anche in un lavoro, quindi volevo riuscire a trasformare la mia passione in un lavoro e di conseguenza ho scelto io di investire in una tavoletta più costosa che mi dà migliori prestazioni, ma non che io sia diventata più brava grazie a questa tavoletta, semplicemente la tavoletta ha una resa dei colori migliore e quindi mi permette di vedere al meglio magari le mie illustrazioni, è più grande e quindi mi trovo meglio magari con alcuni programmi, mi piace avere magari lo schermo grande quando lavoro sulla mia postazione e in particolare è più veloce, quindi mentre io disegno il tratto non va a scatti ma è molto molto fluido e quindi questo mi permette di essere più veloce quando disegno, ma non significa che io ero meno brava con la tavoletta precedente, semplicemente con questa ho prestazioni migliori, ma la mia bravura è rimasta la stessa, sono migliorata perché io sono migliorata come artista, ci tengo molto a precisare questa cosa perché non tutti giustamente comprendo, non tutti possono investire in una tavoletta grafica da 2 o 3 mila euro, io stessa non avrei mai potuto comprare questa tavoletta se non fosse stato per l'aiuto e il contributo dei miei genitori e del mio compagno e penso che se non avessi avuto il loro aiuto probabilmente, anzi quasi sicuramente, questa tavoletta fino all'anno scorso non avrei mai potuto comprarla, quindi ci sono anche tanti artisti che conosco anche sul web, ho visto i loro video e che parlano proprio raccontando la loro esperienza e citando il fatto che loro hanno iniziato con una tavoletta grafica, anche per esempio la bambù che è una tavoletta grafica senza schermo quadrata, grande così, è piccolissima e magari la usano tuttora perché non è la tavoletta grafica a disegnare per noi ma siamo noi a disegnare sulla tavoletta, è chiaro che se vogliamo più velocità quindi maggiori prestazioni, vogliamo una tavoletta che sia più reattiva, vogliamo che magari sia in grado anche di fare un montaggio video dei nostri disegni, ecco per esempio, allora dobbiamo investire in una tavoletta più costosa che ci permette di non avere il tratto a scatti anche se lavoriamo con immagini molto grandi, ecco qua è sempre importante sapere che cos'è il disegno digitale perché per esempio se io lavoro con un'illustrazione piccola, con una tavoletta grafica di piccole prestazioni non è un problema ma se voglio cominciare a fare un'illustrazione che ha 300 livelli, insomma tante prestazioni, qui le code cominciano a cambiare perché ovviamente se abbiamo una tavoletta grafica con minori prestazioni potrebbe o andare a scatti, qui parliamo principalmente di tablet, ma le tavolette senza schermo magari c'è principalmente il problema anche della pressione, più livelli di pressione hanno e più ci permettono di avere dei tratti più fluidi, quindi ok potrebbe migliorare leggermente la sfumatura ma questo non va ad incidere realmente sull'illustrazione, semplicemente se abbiamo meno livelli di pressione dobbiamo stare un pochino più di tempo lì a fare in modo che la sfumatura sia come vogliamo noi, parliamo di qualche minuto ma non incide sulla bravura del disegnatore, anzi in un certo senso trovo che partire da tavolette più basse ci permetta di sfruttare al meglio poi la nostra manualità e poi passare eventualmente investire in una tavoletta più costosa. Ripeto quindi non è indispensabile, non è necessario avere una tavoletta costosa, la mia è stata una scelta personale dettata da altre motivazioni e quindi questa è la mia risposta. Fatemi sapere cosa ne pensate, se secondo voi avere una tavoletta grafica costosa è l'unico modo per migliorare nel disegno digitale, ma io credo che sicuramente se avete sperimentato e disegnato in digitale sapete benissimo che le tavolette grafiche non sono magiche, quindi è la nostra mano a fare tutto, non è la tavoletta grafica, come purtroppo molte persone che non disegnano in digitale la pensano così, pensano che sia la tavoletta grafica a fare tutto ma non è vero, non è così e quindi mi interesserebbe sapere che cosa ne pensate, spero di avere sollevato il morale a chi non possiede una tavoletta grafica di fascia alta, sappiate che non è la tavoletta a determinare il vostro talento, poi di talento in realtà dovremmo parlarne, ma non è la tavoletta grafica a determinare la vostra bravura, ma siete voi, è la vostra mano, la vostra manualità, però mi interessa sapere anche cosa ne pensate. Fatemi sapere con un commento, lasciate un like se il video vi è piaciuto, ovviamente se avete consigli suggerimenti su altre puntate, su altri argomenti che vorresti trattare all'interno del podcast scrivetemi con un commento oppure agli indirizzi mail info-creolisa.it e come sempre noi ci vediamo alla prossima puntata, ciao! Ciao! Ciao!